Una bravata irresponsabile costa molto cara a due giovani rimasti in lesima che sono finiti agli arresti domiciliari. I carabinieri della Terenza di Floridia e della stazione di Belvedere li hanno sorpresi mentre avevano appena dato fuoco ad un campo di sterpagli a località Belvedere. Entrambi i 19 anni incensurati sono stati arrestati per incendio. I due amici, a mezzo di un accendino rinvenuto a terra e sottoposto a sequestro, hanno dato fuoco alle sterpaglie di un campo non delimitato da alcuna recensione ubicato vicino a delle abitazioni e prossimo alla strada. Proprio passando sulla strada a bordo della sua autovettura, un carabiniere libero dal servizio si è insospettito dell'atteggiamento dei giovani e ha allertato i colleghi. Le fiamme, complici anche a un'elevata temperatura serale ed il vento, si sono rapidamente propagate disorgendo in ardi 150 metri di estensione, in prevalenza sterpaglie ma anche con tratti di vegetazione. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Siracusa. Primo confronto, ieri pomeriggio in via Roma, tra il commissario del Libero Consorzio Giovanni Arnone e i sindacati per affrontare le questioni legate alla situazione difficile, economica soprattutto dell'ente, che ha difficoltà nell'erogare servizi e nel pagare gli stipendi ai dipendenti a quelli di Siracusa e Risorse. Su un aspetto, Arnone è stato molto chiaro, il suo obiettivo è quello di evitare il dissesto dell'ente ed è per questo che ha dato già precise disposizioni agli uffici competenti per elaborare proposte efficaci per rimettere pian piano i conti a posto. Occorrerà anche che vengono trasferite alcune risorse. Arnone ha precisato quali e si augura che in un mese e mezzo le somme di denaro possono essere a disposizione dell'amministrazione. In particolare ha fatto riferimento a 13 milioni e mezzo di euro da ripartire tra gli enti al Libero Consorzio, dovrebbero andare 2 milioni. In questo senso si sta convocando un tavolo regionale per stabilire criteri con cui assegnare queste somme. 9 milioni è la somma inserita in una mini finanziaria e si attende soltanto il voto in aula, in una variazione di bilancio a 20 milioni di euro per i liberi consorsi. La riunione era cominciata con una serie di interventi dei sindacati che hanno disegnato uno scenario drammatico evidenziando la grave situazione in cui versano i dipendenti dell'ente, manifestando preoccupazione per l'imminente apertura delle scuole e chiedendo di procedere con iniziative tese a risparmiare sulle uscite. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi arretrati, il commissario ha chiarito nel corso dell'incontro che è stata inviata una nota alla tesoreria dell'ente con le garanzie che dovrebbe servire nel giro di pochi giorni al pagamento della mensilità di giugno. Il commissario ha fissato mercoledì prossimo alle 16.30 in via Roma una riunione ristretta con una rappresentanza sindacale. All'incontro si dovrà arrivare con un piano di risanamento che dovrà essere condiviso dalle parti. Il comune di Solarino non ha emesso nessuna tessera del pane. È un'iniziativa di un panificatore privato che ha scelto di vendere il pane a minor prezzo alle famiglie indigenti. Risponde così il sindaco Sebastiano Scorpo ai consiglieri comunali di opposizione Pippo Carpinteri e Michele Gianni che hanno chiesto chiarezza, trasparenza e uguaglianza di trattamento circa un'istituita tessera del pane soprattutto dopo le notizie sull'avvio dell'iniziativa definita meritoria ma che coinvolgerebbe un solo panificatore di Solarino impedendo di fatto ai cittadini, obiettano i due consiglieri, di scegliere dove acquistare il bene di prima necessità. Il sindaco però precisa che si tratta di una proposta messa in atto da un cittadino a cui si è garantita collaborazione. Non stiamo agevolando nessun privato. Un fornaio sullarinese, dice Scorpo, ha chiesto di poter individuare tramite il Comune le famiglie realmente bisognose di aiuto. Famiglie a cui è stato rilasciato un tesserino che dimostra l'assistenza fornita dai servizi sociali. Non si possono strumentalizzare anche gli atti di generosità. L'amministrazione comunale avrebbe già effettuato una riunione con gli altri panificatori due dei quali avrebbero aderito al progetto. E il consigliere di opposizione rincalzano. È importante che i fornai siano informati e lasciati liberi di aderire o meno. Proseguono Carpintiare e Gianni e che la gente possa scegliere dove acquistare il pane. L'auspicio è che l'amministrazione dia trasparenza all'iniziativa e a che all'opposizione venga fornita la documentazione che spetta di diritto. La Neapoli si invasa da branchi di cani randagi che rappresentano un pericolo serio e concreto per migliaia di turisti. A sollecitare l'intervento dell'amministrazione comunale l'onorevole Vincenzo Vinciullo, presidente della commissione bilancio e programmazione all'Ars insieme ai consiglieri comunali Fabio Alota, Salvo Castagnino e al presidente della circoscrizione Neapoli, Peppe Culotti. Vorremmo ricordare episodi gravissimi che si sono conclusi anche in maniera tragica con la morte purtroppo delle persone che sono state aggredite da cani randagi. Al fine di evitare che anche a Siracusa possa accadere ciò che è avvenuto drammaticamente in altre realtà invitiamo l'amministrazione a procedere oggi stesso alla cattura dei cani e a loro ricovero in una struttura adeguata in quanto il branco sta aumentando giorno dopo giorno ed è chiaro che gli animali avendo la necessità di nutrirsi e anche di bere ogni giorno diventano più aggressivi. Chiude il museo i luoghi del lavoro contadino meglio una mostra temporanea che un attrattore culturale permanente giudica negativamente Maria Rita Sgarlata gli interventi degli amministratori nessuna visione dice per il bene comune nessuna attenzione vera per i territori sovrintendenza senza risorse musei senza fondi per il funzionamento ordinario e tante iniziative direttamente promosse in tutta la Sicilia mostre, sagre, eventi collaterali per prepararsi alle prossime elezioni regionali. I fondi dice Maria Rita Sgarlata delle iniziative direttamente promosse dall'assessore regionale beni culturali strumento inossidabile per clientele e propaganda elettorali potevano essere più proficamente utilizzate per aiutare il museo di Buscemi a sopravvivere piuttosto che per la sconclusionata mostra da Laureana ad Antonello allestita in più in agosto in fretta e in furia nella sede di Palazzo Cappellani e Palazzolo. Il 24 febbraio del 2014 è stato apposto il vincolo di tutela degli immobili costituenti l'itinerario etno-antropologico che si articolava tra i comuni di Buscemi e Palazzolo Acreide denominato i luoghi del lavoro contadino realizzato da Rosario Accavive e dalla sua equip. E un protocollo di intesa fu siglato anche col coinvolgimento della sovrintendenza di Siracusa e della Casa Museo Uccello volto a razionalizzare la gestione coordinata dei siti e la valorizzazione integrata delle iniziative culturali del territorio. Decreti, protocollo di intesa, tutto inutile. Se le lacrime di Maria sono motivo di consolazione per ogni uomo bisognoso della misericordia di Dio tanto più esse sollecitano noi che il Ministero che ci è stato confidato a favore del popolo di Dio siamo costituiti i ministri della riconciliazione e dispensatori della grazia che salva. Maria è certamente l'icona della Chiesa e di noi sacerdoti in particolare. Ciò significa che il nostro Ministero Pastorale non si qualifica tanto per le attività che poniamo in atto ma principalmente per quel posto presso la Croce di Gesù che ci rende partecipi della sua passione. Così l'Arcivescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Peppalardo ha sottolineato presiedendo nella giornata delle vocazioni e della vita consacrata la solene celebrazione eucaristica concelebrata dai giovani sacerdoti della Sicilia nell'ambito dei festeggiamenti già iniziati del 63esimo anniversario della lacrimazione di Maria. Ieri sera solenne celebrazione presieduta da Monsignor Giovanni Demetrio un giorno prima la giornata della vita. Oggi invece, primo settembre, giornata della famiglia. Alle 19 in Basilica, solenne con celebrazione presieduta dal Cardinale Menichelli, Arcivescovo di Ancona, Osimo. Al termine della celebrazione, Monsignor Papalardo affiderà l'Arcidiocesi al cuore immacolato e addolerato di Maria. Di concerto, l'Istituto Scolastico Comprensivo Quasimodo e l'Ufficio Tecnico del Comune di Floridia hanno deciso di modificare i lavori di messa in sicurezza adeguamento dell'impianto antincendio per il basamento di costruzione di un casotto che doveva essere posizionato inizialmente nel coltile all'interno e che doveva ospitare 5 serbatoi per l'accumulo dell'acqua in caso di necessità. L'Istituto Comprensivo, infatti, è interessato da lavori di messa in sicurezza, adeguamento di impianto antincendio e di rifacimento del prospetto esterno. I serbatoi, spiega l'ingegnere capo Concettolo Giudice, saranno allocati nelle aiuole adiecenti il caseggiato che ospita già la caldaia e il gruppo di pressurizzazione, modifiche che permetteranno di liberare un'aria peraltro utilizzata dall'utenza scolastica come raduno in caso di calamità. I lavori iniziati nel mese di giugno, precise il dirigente scolastico Salvatore Cantone, dovrebbero essere consegnati per la fine di dicembre, almeno per il prospetto esterno. La ditta, anche sotto nostra sollecitazione, si è prefissata di ultimare tutti i lavori all'interno dell'Istituto prima dell'inizio delle lezioni. La data di avvio porterà sui banchi di scuola già il 12 settembre 910 lunni iscritti. Scogiurati i disagi per gli studenti, non c'è nessun motivo per effettuare doppi turni. L'amministrazione comunale, sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Claudia Faraci, ha ottenuto le somme necessarie circa 450 mila euro partecipando a bandi ministeriali. Gli interventi hanno permesso anche l'adeguamento dei servizi igienici, la messa a norma dell'impianto elettrico, la petturazione di alcune aule. La scuola, suddivisa in treplessi, gode di buona salute. Non ci sono criticità da risolvere, giudica il dirigente scolastico Cantone, se non la possibilità di migliorie, come ad esempio la recinzione esterna parecchio degradata. Il Comune ha garantito entro l'avvio dell'anno scolastico interventi di pulizia e manutenzione del verde e delle aree di pertinenza delle scuole. È un quadro positivo quello che emerge dopo il secondo giorno di gara ai campionati mondiali di Canoa Apollo, che si stanno svolgendo a Siracusa, tra le acque di Ortigia con tre nazionali italiane su quattro ancora in corso. Out le azzurrine del Lanter 21, che lotteranno ora per conquistare un posto tra il sesto e l'undicesimo posto. La senior maschile archivia le due gare di ieri con 14 gol fatti e 4 subiti, battendo gli Stati Uniti 8-1 e i rivali del Belgio, con pagina europea tra le migliori a livello internazionale sconfitti 6-3. Oggi gli azzurri nuovamente in acqua contro il Basile, per confermare la prima posizione nel girone contro i sudamericani, vincenti ieri 4-1 contro gli Stati Uniti. Protagonista assoluto Luca Bellini, autore di 9 gol. Bene anche le senior femminili, che battono con un netto 5-0 le americane, iniziando con il piede giusto e il mondiale, che proseguirà per loro oggi con le sfide contro la Spagna e la Gran Bretagna. Italia che dopo un match guida la gradutoria del gruppo P con gli stessi punti 3 della Gran Bretagna. L'Hunter 21 maschile non dà continuità alla vittoria di ieri contro la Danimarca, 3-0 incappando in una sconfitta contro la Gran Bretagna. Il riscatto arriva nel terdo pomeriggio con gli azzurrini che travolgono 14-1 e il Canada, risultato che consente di passare al turno successivo come secondi del girone. Tutto pronto a Canicattini-Bagni per le manifestazioni del 31esimo Palio di San Michele, appuntamento che accompagna la festa del Patrono, dove si aspetta il 29 settembre con la spettacolare Sciuta. È organizzato dal Comitato dei Quartieri, a cui si affianco nel Comune il Comitato dei Festeggiamenti di San Michele e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e d'Entità Siciliana. Anche in questa 31esima edizione i protagonisti del Palio di San Michele saranno gli otto quartieri di Canicattini, Balatazza, Matrice, Pizzumuro, Priolo, San Giovanni, Santuzzo, Vaduni, Vignari, Serantino. Con le sagre enogastronomiche, la promozione di prodotti tipici locali e la rievocazione storica il 4 settembre dalle 16.30 con la sfilata in costume dell'arrivo della cittadinanza attraverso l'ex strada di Scala, Bagni e dei contadini che della fine dell'Ottocento tornavano dalle campagne in occasione delle celebrazioni religiosi locali. Dal 3 al 4 settembre alle ore 20 il Museo Sotto le Stelle con una ricostruzione fedele nel cuore del centro storico Canicattinese con centinaia di figuranti e le musiche popolari dei Perciazzurra e del trio Triulo, Malanova e Cuntintizza dei luoghi e delle abitazioni e delle botteghe artigiane del lavoro contadino, della vita e degli antichi mestieri e delle usanze locale. Con il 4 settembre dopo l'arrivo dei contadini accompagnati dalle musiche del Corpo Bandistico Città di Caricattini Bagni alle 18 nella centralissima via Vittoria Emanuele la seconda edizione della Cursa Quescecchi preseduta dalla sfilata delle autorità cittadino con il sindaco Paola Mente e l'amministrazione comunale e la partecipazione di due città con le quali Canicattini e Gemellata. Floridia, presente col sindaco e i quartieri vincitori del Palio dell'Ascensione e il comune Campano di Camposano presente con una delegazione organizzatrice del Palio Internazionale del Casale che vede sfidarsi regioni, italiani e stati esteri nella corsa con gli asini. La Cursa da Quescecchi, come già l'anno scorso, verrà trasmessa dalla nostra emittente televisiva Telestar in streaming per dare modo ai tanti connazionali all'estero di poterla seguire, in particolare alle comunità di Hartford nel Connecticut che quest'anno festeggia così come il Palio il 31esimo anniversario della fondazione del Canicattinese Men's Society. Tutto come da pronostico, Ramaia non ha avversari e di forza risolve la seconda tris, ospite all'ippodromo del Mediterraneo. Dopo la recente facile affermazione, l'allieva di Natale Cintura replica in maniera altrettanto convincente con insulchi salvo Cintura Junior mercoledì pomeriggio. Prevedibili protagonisti alla vigilia per le grosse potenzialità mostrate su pista, replica RL Petty Rosso Jet, e i due non deludono le attese nell'ordine completo nel podio del premio Vergine. Ma altrettanto proclamato anche il successo di Tu Sei Tu Bigi che sulla scia della strepitosa forma palermitana guidato da Danilo Lagala è protagonista di un allungo che non lascia scampo a chi come Tai Bi e Todo Bien tentano in vano l'aggancio. Questi ultimi devono così farsi bastare la seconda e terza moneta. Questo è l'esito del premio Zodiaco centrale di Trotto riservato ai cavallianzani impegnati sui selettivi 2.200 metri. Entusiasmo hanno raccolto le suggestive corse di Minitrotter. L'appuntamento adesso è con le corse miste in programma sabato 3 e domenica 4 nel pomeriggio. L'appuntamento adesso è con le corse miste in programma